Diretta Feyenoord Roma, ora live partita di oggi. La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Al de qui la squadra di Mourinho ritrova il Feyenoord. Battuto lo scorso 25 maggio nella finale di Conference League. Non penso a Tirana. Loro sì, ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match. Gli olandesi pensano alla rivincita, i veterani di Tirana invece a Onbis per poter arrivare all'Olimpico con un risultato positivo. 18. L'ex Feyenoord Linssen, odiamo Mourinho il giocatore, in campo nella finale di Tirana. Ora in Giappone, mi sveglierò di notte per tifare i miei ex compagni leggi tutto. 17.45. Il Feyenoord punge la Roma prima della gara di Europa League. Gli olandesi hanno voluto mandare un messaggio chiaro e giallorossi leggi tutto. 17.30 Feyenoord Roma, le formazioni ufficiali Feyenoord, 4, 3, 3, Bielow, Gertruida. Trauner, Anko, Hartman, Cocu, Ueffer, Zimanski, Jan Baksch, Jimenez. Idrissi ha a disposizione, Marciano, Willenreuther, Trost, Pedersen, Rasmussen. Casanuirio, Lopez, Dilrosun, Walemark, Tabouni, Paiksao, Milambo, Bullaude. Danilo Allenatore, Slat. Roma, 3, 4, 2, 1, Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanes, Zalewski. Cristante, Winadoum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. A disposizione, Svilar. Boer, Lorente, Kumbulla, Ceik, Bove, Tayrovic, Camara, Matic, Belotti. Il Sharaoui, vulpato allenatore, Mourinho. Virgola. Stadio Dequip Rotterdam. La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Al Dequip la squadra di Mourinho ritrova il Feyenoord. Battuto lo scorso 25 maggio nella finale di Conference League. Non penso a Tirana. Loro sì, ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match. Gli olandesi pensano alla rivincita, i veterani di Tirana invece a un bis per poter arrivare all'Olimpico con un risultato positivo. 18. L'ex Feyenoord Linssen, odiamo Mourinho il giocatore, in campo nella finale di Tirana. Ora in Giappone, mi sveglierò di notte per tifare i miei ex compagni. Leggi tutto 17.45 Il Feyenoord punge la Roma prima della gara di Europa League. Gli olandesi hanno voluto mandare un messaggio chiaro e giallorossi. Leggi tutto 17.30 Feyenoord Roma. Le formazioni ufficiali Feyenoord, 4, 3, 3, Bielow, Gertruida, Trauner, Anco. Hartman, Cocu, Ueffer, Zimanski, Jan Baksch, Jimenez, Idrisi a disposizione, Marciano. Willenreuther, Trost, Pedersen, Rasmussen, Casanuirio, Lopez, Dilrosun. Walemark, Tabouni, Paiksao, Milanbo, Bullaude, Danilo Allenatore, Slat. Roma, 3, 4, 2, 1, Rui Patricio, Mancini, Smaling, Ibanes, Zaleuski, Cristante. Winadoum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. A disposizione, Svilar. Boer, Lorente, Kumbulla, Ceik, Bove, Tayrovic, Camara, Matic, Belotti. El Sharawi, Volpato Allenatore, Morino. Stadio Deque Protterdam. Stadio Deque Protterdam. Grazie a tutti